Ciao a tutti. Cari spettatori del nostro canale. Oggi ci immergeremo nell'affascinante mondo di uomini e donne, guidati dalla saggezza di Maria De Filippi. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, diamo uno sguardo a ciò che è successo. Nella puntata del 17 novembre 2023, siamo stati testimoni di un momento davvero insolito. Marco, l'ex fidanzato di Claudia Lenti, ha fatto il suo ingresso nel programma dopo aver chiamato la redazione di Uomini e Donne. Una mossa inaspettata, che ha scatenato polemiche e reazioni sorprendenti. Maria De Filippi ha chiarito che Marco ha manifestato il desiderio di partecipare molto prima dell'incontro casuale con Alessio Pili Stella e Claudia sul campo di Padel. Tuttavia, non tutti hanno accolto positivamente la notizia della sua presenza. Sospettando che dietro ci fosse qualcosa di più. La reazione di Claudia non è passata inosservata. Mentre Marco cercava di capire se la storia tra di loro fosse davvero finita, lei sembrava ormai indifferente e concentrata su una nuova persona nella sua vita. La Cipollari ha definito l'intera situazione, una pagliacciata. Posizione condivisa da molti telespettatori. Il confronto tra Alessio, Claudia e Marco ha portato alla decisione di quest'ultimo di lasciare Uomini e Donne, sentendosi indesiderato. Tuttavia, la reazione di Alessio ha aggiunto ulteriore complessità alla situazione. Mettendo in dubbio la sua volontà di continuare la conoscenza con Claudia. Maria De Filippi ha cercato di far riflettere Alessio. Suggerendo che Marco poteva essere venuto per altre ragioni. Ma la tensione in studio è rimasta palpabile. Claudia ha poi svelato dettagli sulla loro rottura. Includendo una proposta di matrimonio rifiutata a causa di sospetti non confermati. Il colpo di scena è arrivato con la sfilata e una proposta inattesa da parte di Barbara De Santi a Marco Viola. Dopo qualche esitazione, Marco ha accettato l'invito. Suscitando reazioni contrastanti e polemiche da parte di Gianni Sperti. E così, la trama si è intrecciata tra emozioni forti, decisioni cruciali e una spruzzata di gossip. Cosa accadrà dopo questo episodio? Per scoprirlo, continuate a seguirci su questo canale. Se vi siete appassionati a questa intricata storia di cuori e passioni, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere gli aggiornamenti sulle vicende più avvincenti di uomini e donne. Cliccate sul pulsante di iscrizione. Attivate la campanella delle notifiche e rimanete con noi per nuove emozioni televisive. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.